buongiorno e adesso preparazione della tavola di nonno faustino e fede tira la tovaglia ecco a voi firmato di carletto life oh ciuccio la porca maia aia ma che è fammi fa il tirato vai aia oh chi sei jackie shan oh chi sei chi sei tu chi sei chi sei chi sei chi sei chi sei buongiorno è ma tu vuoi già fai massaggio anche entro la spalla perché è perché ti c'è da una zampata per bene anche oggi stiamo leggeri e guarda che pagliaio di pasta con la carne il parmigiano di tutto e di più ma che dieta è questa o no che dieta è quella che mi fai cazzo mia e poi e poi e tu fai tu e tu magno come un coso grazie a tutti grazie a tutti